salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui di nuovo con un episodio di second chance heroes per un altro contest allora abbiamo già proposto questo gioco che ad accesso anticipato quindi ancora in fase di sviluppo quindi vi rimando sempre alla playlist dei giochi indie arcade dove potete trovare sia l'altro episodio sia molti altri giochi che stiamo vedendo in questo periodo faremo un single player così abbastanza veloce appunto giusto per introdurvi il contest io ragazzi spero che questi contest vi stiano piacendo spero che appunto vi piaccia l'idea di fare contest ogni tanto per potervi regalare qualche gioco di questi magari in questo periodo ne sto facendo un po di più perché ne sto portando parecchi di questi titoli allora cambiamo eroe perché l'altra volta abbiamo provato questi quindi adesso andiamo con giovanna d'arco ok e togliamo napoleone che era un grandissimo qui nel gioco mamma che fricata e ci mettiamo elisabetta prima la regina ok partiamo con il livello dovrebbe andare anche il pad adesso lo proviamo comunque ragazzi partiamo subito allora start sì aspetti mi dia elisabetta prima non è vero questo è giovanna d'arco oh ah ok con questo lo cambio non mi ricordo più ragazzi avete pazienza dove andare oh mamma mia che cattura si stai calmo buon uomo adesso inizio a spaccare dei culi giovanna d'arco un po così giovanna d'arco inizia a spaccare dei culi con la spada allora ragazzi come detto il gioco è ad accesso anticipato è molto molto così diciamo divertente dal punto di vista proprio dello scazzo nel senso come vedete è abbastanza figo come gioco guarda la mamma mia panico aspettate andiamoci a prendere questi aia vale da solo e allora veniamo subito al punto per la come aggiudicarsi il gioco allora ragazzi aia aia me ne vado stiamo morendo stiamo morendo mamma mia eh anche la regina elisabetta è abbastanza cazzosa secondo me i più divertenti sono la regina elisabetta e oh occhio allora bram lincoln aveva il la motosega mentre il cannone di napoleone ok no è questa è una frase di coso ha messo la bandiera apriamo qui andiamo a bomba ha rubato una frase del duca del mitico duke nuke allora come dicevo ragazzi sarà un video breve appunto per il contest per aggiudicarvi il gioco ci sono due copie per voi quindi per aggiudicarvi il gioco due di voi saranno estratti random tra quelli che condivideranno il video condividete il video sulla pagina facebook nel senso come per gli altri contest farò un post sulla mia pagina facebook vi invito anche a lasciare un bel mi piace sulla pagina attenzione cosa abbiamo preso? non so attenzione via metta la bandiera metta la bandiera di nuovo non è vero ce ne andiamo ce ne andiamo dovete condividere il post sul vostro diario sulle vostre pagine facebook e farlo in modo pubblico è importante ragazzi in modo tale che io possa vedere che lo avete condiviso quindi mi raccomando condividete in modo pubblico quando andate a selezionare la condivisione c'è sempre l'opzione e poi tra circa tre giorni saranno estratti i due fortunati vincitori di questo gioco attenzione attenzione cosa ci ho sbloccato aspetta guarda questo si è ripiata un po' Giovanna d'Arco non è vero sta ancora morendo ma allora mi rimetta quell'uomo l'uomo metta la regina non quell'uomo poi andremo a prendere un po' di salute e ci ributtiamo giù Giovanna d'Arco attenzione è abbastanza cattiva comunque anche merda attenzione che poi esplodiamo anche noi eh calma vado di caffa stiamo qui merda 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 esplosioni a bomba c'è un lupo mannaro guarda la panico no guarda quelli che vomitano ma che cazzo fa spezzo le mani attenzione ci stanno vomitando in faccia ma che è anche un panino ma mi scusi ma che cos'è prendi la fiamma prendi la fiamma aspetta rimettiamo Giovanna d'Arco e riprendiamo la salute perfetto perfetto quindi mi raccomando ragazzi seguitemi sulla pagina facebook perchè anche lì ci saranno aggiornamenti i risultati usciranno sulla pagina facebook direttamente quindi eh ricordate di mettere anche un mi piace lì sulla pagina sia per i vari contest ma anche per tenervi aggiornati sul canale e vi invito anche ad iscrivervi al secondo canale per stare alle games dove molti di questi giochi li andremo a proseguire lì io ve li presento prima sul primo canale ma mamma mia ma poi questi giochi ragazzi li andremo a trattare maggiormente sul quello che è il secondo canale quindi seguitemi anzellino raccomando e questo mi sta massacrando mi metta la regina che magari con il mio crone arriva ad essere più cattiva che proprio la faccio per andare alla distanza aia aia sta morendo attenzione e che cos'è mi stanno massacrando la regina regina vada oh così con cattiveria mi metta anche questa ora riusciamo a fare dei danni dove siamo stanno morendo qua ok no come fa lì state calmi state calmi che cos'è con cattiveria con cattiveria vada regina mi raccomando eh prenda la fiamma aspetta aspetta momento 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 un po' di di tutto spacchiamo stiamo spaccando di tutto ok dove mi porta regina ci buttiamo non è vero cosa c'è qui ma dobbiamo uscire va bene si non è una bomba c'è anche il multiplayer di questo gioco come abbiamo visto dalla schermata iniziale magari poi lo andremo anche a provare come ho detto però probabilmente lo faremo in sezione del canale facendo dei danni adesso non va a finare giù attenzione mi metta giovanna d'arco dove è andata va bene va bene vai giovanna d'arco vai così con cattivari vai che si mettono anche a ballare mamma mia questo second chance di spada damo se damo se nuova zona va bene ragazzi allora io direi che ci possiamo salutare qui con questo video come detto lo farò abbastanza breve perché è un video per il contest e mi raccomando ricordatevi di condividere allora il post che vi lascerò sulla pagina facebook lasciate anche un mi piace alla pagina alla pagina danni 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 panico panico così con cattiva aria e tra tre giorni più o meno usciranno i risultati sempre sulla pagina facebook e due di voi si potranno aggiudicare questo second chance heroes come sempre nei commenti fatemi sapere la posta ditemi io come detto ragazzi se posso quando posso cercherò di proporre contest per regalarvi qualcosina per farveli oltre vedere questi giochi anche provare a voi in prima persona spero apprezzate dato nel limite del possibile perchè non è che non è che non è facile ci sono tantissime uscite quindi giù economicamente le uscite soprattutto poi a settembre io magari nel periodo di agosto ragazzi non ci sarò quindi questi video li sto registrando in anticipo poi come ho detto a settembre riprenderemo abbastanza a bomba le serie qualunque serie sia arcade sul primo canale sia sul secondo sia le altre serie come detto normali spegniamo questo vai vai ah non abbiamo energia mamma mia che stiamo a fare danni danni ammazza tutti ammazza tutti come se non ci fossero domani mamma mia giovanna d'arco attenzione spadaccina allora mi metta la regina che almeno recuperiamo un po' di salute e ok allora ragazzi ci vediamo con il prossimo video mi raccomando allora condividete fatelo in modo pubblico sui vostri diari e le vostre pagine noi ci vediamo con i prossimi episodi i prossimi video su primo e sul secondo canale un saluto a tutti da quel taleale grazie a tutti